Ciao a tutti i cinepresi, la terra dell'abbastanza dei fratelli Fabio e Damiano D'Innocenzo potrebbe essere il prossimo grande fenomeno italiano. Il film è stato presentato a Berlino con un grandissimo successo di critiche e sta arrivando nelle nostre sale, dove si sta trascinando una serie di pareri positivi che veramente possono fare ben sperare. Il film racconta di Mirko e Manolo, due amici che un giorno per puro caso investono e uccidono un boss della malavita locale pentito. Questo fatto apre ai due amici delle possibilità. I due iniziano infatti una vera e propria carriera criminale all'interno dei clan locali. Come potete intuire questo racconto, questa struttura è quella di un viaggio all'inferno, di un passaggio da una vita sostanzialmente bambinesca. I due personaggi ci vengono mostrati inizialmente proprio come due amici che si godono la vita in maniera leggera e nel procedere dalla storia i due acquisiranno la coscienza delle proprie azioni fino ad arrivare a degli ovvi esiti drammatici. L'opera prima dei fratelli di Innocenzo spicca soprattutto per la grande maturità con cui si approccia al genere e la grande potenza che trasmette dalle immagini. I due fratelli non hanno mezzi misure, partono con campi lunghissimi, inquadrature master che mostrano veramente grande parte della periferia e poi arrivano subito a dettagli, molto spesso anche macabri o comunque sporchi, poco puliti, quasi a raccontare con realismo la situazione della periferia. Infatti il luogo in cui si svolgono le vicende è un vero e proprio protagonista dell'azione. I due registi sostengono di essersi formati in due modi, da una parte guardando tanto cinema e imparando dai grandi maestri, dall'altro lato con il lavoro di Ghost Rider, quindi quelle figure che stanno dietro le sceneggiature che molto spesso non emergono come nome ma dove hanno potuto imparare molto sui problemi di una sceneggiatura, su come strutturare i dialoghi. E devo dire che in questo film la cosa più brillante è proprio il lato della sceneggiatura, sotto il profilo dei dialoghi. Se la storia non è particolarmente originale, sono incredibili le parole messe in bocca ai due attori che tra l'altro fanno una performance veramente matura ed eccezionale, che riescono a riportarci all'interno di un contesto sociale che i due registi si vede che amano veramente tanto e che quindi portano allo spettatore con anche un lato di dolcezza. Il film è molto ironico e in questo riesce a vincere e a graffiare, perché alterna delle scene estremamente drammatiche con le risate, come veramente solamente dei registi molto consapevoli possono riuscire a fare. Tra le note negative c'è un po' un problema, secondo me, di senso del pericolo, per cui questo percorso, questa discesa veramente agli inferi che i due fratelli fanno non viene percepita troppo dallo spettatore. La scelta dei due registi di non mostrare la violenza in maniera spettacolare è molto forte e personalmente mi trovo anche d'accordo all'interno del contesto del film, questo ci sta benissimo. I due di innocenzo sostengono infatti che la violenza di per sé non sia affatto spettacolare, anzi sia una cosa da mostrare come è realmente, quindi come un atto fondamentalmente brutto e disarmonico. Quindi i due scelgono di non sottolineare troppo il contenuto della violenza, però questo appunto porta un po' di debolezza dal punto di vista drammatico. La terra dell'abbastanza è però uno di quei film che speriamo di vedere più spesso all'interno del cinema italiano, un prodotto molto piccolo che purtroppo farà fatica a trovare un suo mercato e che credo valga la pena di supportarlo il prima possibile andandolo a vedere proprio nei primi giorni qui in sala. E rappresenta anche un bel passaggio di consegne tra un regista maturo e due registi esordienti. Infatti i fratelli di innocenzo hanno collaborato con Matteo Garrone alla sceneggiatura di Dogman e si vede che tra questi due, tre registi ci sia stato un vero e proprio scambio anche creativo. Ci sono alcune somiglianze dal punto di vista stilistico e anche tematico, il rapporto delle persone con la società, il tema delle periferie. Ed è bello questo cinema che si incontra, che si autoalimenta tra grandi lavoratori e grandi autori di questa arte. Per questo motivo voglio consigliarvi La terra dell'abbastanza perché è uno di quei film, prima di tutto, che va supportato, ma che in futuro potrebbe darci l'orgoglio di poter dire io ho scoperto due autori. Mi raccomando fatemi sapere che cosa ne pensate del film, iscrivetevi al canale, noi ci vediamo sempre qui su Cinepreso. Ciao a tutti! Ciao a tutti!